L'Abruzzo è un piccolo territorio, eppure in ogni paese vi è una parlata particolare, frutto di differenti storie millenarie. E' con questa premessa che si apre il libro di Aurelio Bigi, pubblicato da Rotary Club di Chieti per edicola editrice castellana. Un traduttore della lingua italiana, la parlata di Atina e viceversa, presentato al Museo d'Arte Costantino Barbella di Chieti da Gregorio Di Luzio, presidente del Rotary Club di Chieti. Aurelio Bigi, da dove nasce l'esigenza di un libro che traduca dalla lingua italiana alla parlata di Atina e viceversa? Io noto che sempre più persone amano scrivere poesie, piccoli racconti in dialetto, però una cosa è parlarne, un'altra cosa è lo scrivere. Scrivere è sicuramente più difficoltoso, allora mi è sembrato simpatico e utile creare questo piccolo volumetto che non vuole essere un dizionario e non ha questa pretesa, ma un semplice traduttore. Nello stesso tempo puoi avere l'opportunità di approfondire le peculiarità della nostra parlata, perché non nasce il dialetto o la parlata nostra locale così, senza motivo. Vi sono delle motivazioni connesse ad esempio con le dominazioni che noi abbiamo avuto nel passato e ogni dominazione ha lasciato determinati termini. Vi è stata la transumanza che ha collegato sicuramente la nostra regione con le Puglie. Ci sono stati feudatari che non erano tutti del nostro territorio, ma spesso venivano dal centro Italia. Basta pensare ai medici, ai Colonna o anche ai Caracciolo, ai Carafa e quindi ognuno ha portato delle proprie influenze, delle proprie lingue. A tutto questo si arriva a che magari nella nostra parlata spesso si usa la D al posto della T, la V al posto della B, poi da Nuvash, non Nubash, oppure la Yashita, la Vav dalla Voc, il Gerundio, la parte Ando finale viene trasformato in N, per cui Canden su N. Ecco, se uno mette insieme tutte queste regole, alla fine ci accorgiamo che la nostra parlata non è che sia una parlata uscita dal nulla. Spazio nel libro anche ai proverbi che poi esprimono spesso quella che è la saggezza popolare. Eh sì, alla fine vi è quasi un appendice con una serie di proverbi che affronta proprio come era la vita di allora. Io ringrazio il Rotary Club che ha creduto in questa pubblicazione, gli sponsor che hanno fatto sì che questa pubblicazione potesse essere realizzata.